Ci siamo Frascatore, inizia il campionato, c'è l'Ancona, subito ti chiedo quali sono le sensazioni? Le sensazioni sono quelle di voler partire bene col piede giusto, di fare una buona partita, di far vedere subito che ci siamo e dare subito un segnale fin dall'inizio che sarebbe perfetto perché partire col piede giusto sarebbe la cosa migliore. In carriera hai fatto sia il braccetto di sinistra sia il quarto o quinto di centrocampo con la difesa a tre. Nella stagione, se non ricordo male, con il su tirolle hai fatto molto bene il ruolo che ti sta chiedendo Rauteri, qual è quella posizione dove ti trovi meglio? Sì, l'ho fatto anche con la Reggiana in passato, è un ruolo che ho ricoperto più volte quando magari trovavo allenatori che si schieravano con la difesa a tre e mi trovo molto bene, mi piace molto. Negli anni è un ruolo che sento più mio. Tra l'altro sei andato anche vicinissimo al gol di prestigio, anche se è un amichevole con il Napoli. Sì, speriamo che arrivi in campionato che sarebbe sicuramente più importante. Fare un gol a Meret avrebbe fatto curriculum? Sì, 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 però è sempre un amichevole. Ripeto, l'obiettivo è di farne qualcuno importante quest'anno in campionato e di aiutare la squadra con qualche gol in più. A proposito di obiettivi, l'obiettivo per questo campionato del Pescara? Io sono solito volare basso, nel senso che giorno per giorno il campionato di Serie C è un campionato difficile, lungo, quindi penso che dovremo ogni giorno lavorare duramente e penso che quella è la cosa più importante. L'ultima cosa, ci racconti un po' questa trattativa estiva, Maxi operazione con la Ternana, con Sorensen che è andato a Terni, tu e Marilungo siete arrivati qui. Sì, si è creata questa situazione, anche se la mia situazione comunque non era legata poi al passaggio di Sorensen. Quando è arrivata l'offerta del Pescara non ci ho pensato due volte, nel senso che nel momento in cui fossi stato chiuso nella lista della Ternana e dare un'uscita a una proposta come quella di Pescara è stata la cosa che desideravo di più e quando è arrivata non ci ho pensato due volte. Bocca al lupo. Crepe, grazie.